Sono Antonio Catalano, vicepresidente di Campania Nord e siamo a questo evento per promuovere i prodotti della nostra provincia che è il Sagno. Ci sono parte dei prodotti del Sagno che riguardano il settore dolciario, tra cui torroni, panettoni ed altri prodotti tipici del periodo natalizio. Ci tenevamo a partecipare e a dare il nostro contributo perché riteniamo che questo sia un evento importante anche perché la nostra missione è proprio quella di rappresentare piccole e medie imprese che producono prodotti di eccellenza e non potevamo assolutamente mancare. Ci auguriamo che venga ripresentato il prossimo anno perché cercheremo di coinvolgere molte più aziende del territorio perché nel settore dei torronifici, in particolare la zona di San Marco dei Cavoti, abbiamo delle eccellenze veramente importanti.